Il caso Rai diventa caso Schifani, duro scontro istituzionale, c'è grande allarme fino in Quirinale, è lo stesso equilibrio politico complessivo che rischia di saltare. Il caso deflagra a sera dopo l'ennesima convulsa giornata di tensioni e rinvii sulle nomine nel CDA dell'azienda pubblica. Il Presidente del Senato accetta in corner la richiesta del PDL di sostituire in commissione di vigilanza il senatore PDLino Paolo Amato con il rappresentante di coesione nazionale Pasquale Viespoli. Da tempo, era il 12 giugno, il gruppo degli ex responsabili chiedeva una rappresentanza in commissione, ma la sostituzione avviene proprio oggi dopo che lo stesso Paolo Amato, che smentisce di essersi dimesso dal PDL, aveva annunciato voto in dissenso dal gruppo. Così il Presidente della Camera e il leader di Futura e Libertà Fini a sera attacca violentemente il suo collega, Presidente del Senato e seconda carica dello Stato, accusandolo di un fatto senza precedenti di inaudita gravità politica. Ora chiarisca intima Fini se la sostituzione è legittima, la tempistica è sospetta, sostiene il Presidente della Camera. Uno scontro mai visto tra i due Presidenti, anche se Schifani non aveva risparmiato critica al collega quando Fini tradì il governo Berlusconi. Ora Schifani si dice sereno, agito secondo le regole, lo difende a spada tratta Cicchitto, Fini non può dare lezioni di imparzialità e anche Alfano non accettiamo critiche da Fini, dovrebbe prendere esempio da Schifani. Ora però il Presidente del Senato ha fatto una brutta scivolata sulle sue prerogative, dicono i terzopolisti. Un pericoloso pateracchio è quello che gli rinfaccia a Emma Bonino, radicale e Vicepresidente del Senato. E ci va giù duro Pierluigi Bersani. Quel che sta accadendo attorno al rinnovo del Consiglio di Amministrazione RAIA ha dell'incredibile modi e tempi della sostituzione del senatore Amato. Lasciano senza parole e credo che a questo punto sia indispensabile e urgente che il Presidente del Senato riferisca in aula. Entro domani ci deve essere una soluzione o il governo agisca intima Bersani, che insieme a Casini ha già rimesso sul tavolo l'ipotesi di un commissariamento della devastata e a Cefa l'azienda pubblica. Come la giustizia alla RAI si conferma a terreno minato, chi la tocca muore, si sussurra in Parlamento. E a tremare potrebbe essere lo stesso governo. Un sistema di potere avrebbe condizionato nomine e appalti in fin meccanica. Ne sono convinti i PM di Napoli, Curcio, Woodcock e Piscitelli, che stamattina hanno sentito come testi l'ex Ministro dell'Economia a Tremonti e Ignazio Moncada, amministratore delegato di FATA, azienda che fa capo al Colosso di Aerospazio e Difesa. L'abitazione e l'ufficio di Moncada a Torino erano stati perquisiti ieri. Quattro ore di interrogatorio nella caserma dei Carabinieri del Noe di Napoli, durante il quale i pubblici ministeri hanno chiesto come avvenivano le nomine ai vertici di fin meccanica, in particolare chi abbia spinto Ursi verso la Presidenza e quali erano i suoi rapporti con esponenti del mondo dell'imprenditoria e della politica. Qualcuno che conta si sarebbe mosso anche per consolidare Ursi al vertice di fin meccanica nelle settimane in cui il Presidente sentiva il suo posto scricchiolare. In aprile Ursi aveva infatti saputo di essere sotto inchiesta per corruzione internazionale e riciclaggio, sospettato di aver pagato tangenti per la commessa ottenuta dall'India degli elicotteri Augusta Westland quando era amministratore delegato dell'azienda. Per i PM 10 milioni di euro sarebbero finiti anche alla Lega. Un particolare interessante emerge da un'intercettazione ambientale il 23 maggio scorso in un ristorante di Roma. A tavola il Presidente dello IOR, la Banca Vaticana, Ettore Gotti Tedeschi e lo stesso Ursi. Il sistema è a tuo favore e ti difenderà, lo tranquillizza Gotti Tedeschi riferendosi ad una conversazione avuta con Moncada che di Ursi avrebbe detto è la persona giusta, va difesa e supportata. Il giorno dopo quell'incontro Gotti Tedeschi verrà sfiduciato dai vertici dello IOR. Quanto emerso da quella conversazione al ristorante ha spinto i magistrati della Procura di Napoli a ordinare le perquisizioni nei confronti di Moncada. Secondo gli inquirenti ci potrebbero essere appunti, relazioni e altro utili a comprovare i rapporti intrattenuti tra il manager di Fata e altre persone costituenti, secondo le parole di Gotti Tedeschi intercettato, un sistema capace di condizionare le scelte aziendali del gruppo Finmeccanica. Un sistema, si legge nel decreto di perquisizione, che avrebbe svolto anche un ruolo sulla gestione di provviste illecite formatesi all'estero e facenti capo al gruppo industriale.